parliamo di una disciplina molto strana molto complicata molto difficile anche da fare ve la spiegheranno qua i nostri amici e parliamo di parkour a Praia World Festival sono Davide come Alessio di Genova Parkour l'associazione che da più tempo fa parkour a Genova da dieci anni ci alleniamo e noi facciamo appunto parkour cosa vuol dire superare degli ostacoli nel modo più veloce fluido e sicuro possibile in una eventuale situazione d'emergenza possono farlo tutti dai più piccini ai più grandi qua ai piani di Praia vedete due maestri molto quotati dove potete provare questa bellissima disciplina dai più piccoli ai più grandi giusto giusto non c'è limite in età non c'è limite di peso quello che conta è la voglia di provare e mettersi in gioco nel superare i propri limiti e a questo punto con David con Alessio ci vediamo qua il 7-8 luglio venite in tanti e venite a provare tutte le discipline di Praia World Festival ciao ragazzi